una volta arrivati alla conclusione anche di questo giro mi chiudo con una maglia bassissima nella prima nella terza delle prime 3 catenelle con cui ho aperto questo giro in questo modo e chiudo adesso quello che mi resta da fare la costruzione di appunto del resto del filo per dio scusate del resto del modulo per fare per squadrare appunto la la nostra piastrella il primo il penultimo giro diciamo perché in realtà il progetto almeno su pinterest io l'ho trovato fin qua ed è portato poi da una da un giro di maglie basse come ho fatto al fondo adesso iniziamo vedete dobbiamo riprendere qui iniziamo qui con 3 catenelle più altre 5 e ci agganciamo con una baglia bassa in questo arco allora mettiamoci qui e partiamo con il penultimo giro poi vediamo come come si usa appunto la pola colla caldo per per concludere il tutto incolleremo una delle la piastrelle almeno già conclusa sulla mia borsa ok allora mi alzo con 3 catenelle 123 poi ho detto ne faccio 5 altre 5 catenelle 2345 e vado nell'archetto del dell'angolo dove faccio una maglia bassa 3 catenelle un'altra maglia bassa aggiungo 5 catenelle e dove era la maglia bassa qui del giro precedente vado a realizzarmi una maglia alta poi faccio 3 catenelle sull'archetto del centrale dei lati sottostanti nella quarta 1 2 3 e 4 nella quarta faccio una maglia bassa quindi in pratica per rendervi più semplice il lavoro e per non farvi sbagliare dove ci sono le sui laterali almeno dove ci sono sotto ma le basse faccio maglia alta dove maglia alta faccio maglia bassa 5 catenelle vado qui nell'archetto maglia bassa 3 catenelle dentro maglia bassa ok 5 2 3 4 e 5 scusate ma sono un pochino caotica sul sul piano di lavoro vado qui e faccio maglia alta 3 catenelle 2 3 salto 123 nella quarta ma ne bassa 123 apro un pochino di filo qui e vado qui ma l'alta 1 2 3 4 e 5 maglia bassa 123 e così questo giro lo stiamo facendo insieme 1 2 3 4 5 qui maglia alta 3 catenelle 1 2 3 nella quarta maglia bassa 3 catenelle e continuiamo così fino alla fine